Quando sono arrivata qua ho visto il mondo, un enorme mondo che stava dietro quel nome. Durante la mia vita ho avuto sempre problemi di denti e nessuno è mai riuscito a risolverli e quindi ero sempre in cerca di quella clinica, di quel dottore competente che poteva capire i miei problemi, che cercasse di risolverlo al meglio. Nella clinica del dottor Palmas ho visto tante pubblicità e mi dicevo chissà quelli che fanno pubblicità magari non sono realmente così come dicono nella pubblicità. Vedevo sempre queste pubblicità, dentista sardo in Moldavia, quindi quando uno dice sardo, siccome io sono quasi sarda, quando sono arrivata qua ho visto il mondo, un enorme mondo che stava dietro quel nome. Sono rimasta stupita perché ho visto del personale gentile, preparato, competente, tutti col sorriso che ti vogliono aiutare. Mi sono sentita accolta, bene, molto bene, coccolata posso dire, ma la cosa più importante è che mi hanno risolto il problema che ho avuto tutta la vita diciamo. Sono molto contenta, soddisfatta del lavoro che hanno fatto, finalmente posso sorridere come non riuscivo a farlo prima e posso solo ringraziare. a me piace fare foto, quindi molto, moltissimo. Infatti adesso con questa esperienza sto insegnando anche ai miei figli di stare più attenti all'igiene, alla cura dei denti e riesco a spiegare meglio quello che c'entra con la salute da questo punto di vista.